Il giorno della memoria È un momento molto importante, credo che serva a mantenere vivo il ricordo di ciò che è accaduto e noi come istituzione l'abbiamo solenizzato attraverso una legge e celebrando tutti gli anni un'iniziativa come questa dove dalle testimonianze dirette ma anche da testimonianze storiche ricordiamo ciò che è avvenuto in Italia. In quel periodo, in questo momento tragico della vita della nostra umanità e credo che serva perché ancora adesso assistiamo a fenomeni di discrimazione razziale o religiosa e quindi più che mai bisogna tenere vivo il ricordo di ciò che è accaduto con la Shoah.